Sì, buongiorno Michela, buongiorno ai telespettatori, è come dite voi 30 arresti, 55 indagati complessivi in questa vastissima operazione con risvolto in tutta Italia. Le nostre telecamere hanno seguito le pantere della polizia passo passo, vi racconteremo come fossero state messe in piedi delle truffe informatiche, romantiche, addirittura anche per avere un vasto giro di affari. Per il momento è tutto, più tardi per la linea. Per oggi è tutto. E noi torniamo sulla notizia di apertura, altre dettagli in diretta da Alberto Orsini. Sì, eccoci qui, allora Black Ex, Ascia Nera è il nome dell'organizzazione che si era radicata fortemente in Italia e anche all'Aquila ed è stata sgominata, è andata negli anni 80 in Nigeria come organizzazione studentesca, poi è diventata associazione criminale di stampo mafioso che è stato riconosciuto in questa vasta operazione. Dicevamo 30 sono gli arrestati, 55 gli indagati complessivi. Parliamone subito con il capo della squadra mobile della questura del capologo Marco Mastrangelo, ecco che com'è andata l'operazione. Sì, dalle prime ore di questa mattina l'operazione è in corso in tutto il territorio nazionale e si stanno eseguendo 30 misure cautelari di custodia in carcere e 25 perquisizioni domiciliari e personali. Gli indagati sono accusati di far parte di un'organizzazione criminale di stampo mafioso denominata Black Ex che è dedita al compimento di truffe informatiche, sfruttamento della prostituzione, tratta e truffe romantiche. L'attività è tuttora in corso e nel corso della mattinata forniremo ulteriori dettagli dell'esito. Ecco, queste truffe informatiche anche attraverso l'uso di carte clonate con questi codici che venivano acquistati, insomma come funzionava? L'acquisto nel Darknet, nel mercato nero di carte di credito clonate con le quali poi venivano acquistati beni e servizi sempre online, sempre sui siti e-commerce. Comunque il resto dell'attività verrà dettagliatamente illustrato nella mattinata. Ecco, anche una peculiarità erano le truffe romantiche, quindi fingersi altre persone per poi ottenere dei soldi. Sì, anche in questo caso sono state ricostruite delle illecite transazioni con delle vittime, delle donne anziane vittime di questo tipo di truffa che è sempre più diffusa in tutto il paese. Ecco, il capologo abruzzese, l'Aquila era uno degli snodi ma è diffuso in tutta Italia? Assolutamente sì, l'Aquila da dove partono le indagini, l'Aquila è stato il centro di queste indagini perché l'esponente di spicco del Calt era appunto residente nella nostra città. Sì, il leader nazionale, si può dire così, di questa organizzazione ha dimorato per quasi due anni nel capologo abruzzese che era anche sede di una dei gruppi quasi dell'endrine, si potrebbe dire facendo un paragone con altre organizzazioni mafiosi? Delle organizzazioni strutturate gerarchicamente, strutturate in maniera molto chiara, con compiti e attività ben definite, delle vere e proprie cellule criminali. Ecco, di queste cellule e degli altri dettagli parleremo poi più avanti, per il momento a voi la linea di nuovo. Pescara. Ulteriori dettagli dall'Aquila. Un milione di euro è il giro scoperto dagli investigatori della procura distrettuale antimafia dell'Aquila e dalla squadra mobile e dalla polizia che ha eseguito questa operazione. Un milione frutto appunto di truffe, come detto informatiche, truffe romantiche, ma anche reati tradizionali, droga, prostituzione, immigrazione clandestina. 300 sono gli uomini impiegati sempre nella stessa operazione di cui vi stiamo parlando. Abbiamo visto le immagini delle pantere della polizia che hanno messo a segno i 30 arresti in carcere e poi le perquisizioni che portano a 25 e quindi a 55 il totale degli indagati dell'operazione. Black Ex, l'organizzazione mafiosa nata in Nigeria e radicatasi in Italia. Molti i poli italiani in Roma, Napoli, quindi anche nelle grandi città, Bari, Caserta, Reggio Emilia e appunto l'Aquila, dove come abbiamo detto c'era un gruppo locale, un forum cosiddetto e dove anche ha dimorato per due anni il principale indagato di questa operazione che era il leader della zona Italia, come fosse una divisione di una multinazionale. Ha abitato qui sull'Aquila per due anni e da qui ha condotto anche varie truffe in prima persona. Questi sono i principali dettagli. Nel corso della mattinata è previsto un incontro con la stampa, parteciperanno anche delle autorità a livello di antimafia nazionale, oltre ai vertici della procura aquilana. Vi abbiamo raccontato la genesi di questa operazione. Per il momento è tutto, restituiamo la linea allo studio.